Allora, Pompetti, abbiamo detto in cronaca, bentornato Marco, si sentiva la tua mancanza. Sicuramente sono contentissimo di essere rientrato e di aver contribuito al pareggio di questa sera, di aver dato una mano alla squadra, ai miei compagni. Sicuramente, come ho già detto prima, ho sofferto in queste due settimane in cui non ho potuto giocare, non vedevo la di rientrare, ho fatto di tutto per esserci il prima possibile e questa sera comunque abbiamo portato a casa un punto importante. Non posso non chiederti del gol, vai, racconta. Sicuramente è stato bravo Mike, mi ha dato molto bene la palla. Io l'ho stoppata, ho fatto quello che mi sentito di fare in maniera istintiva, non ci ho pensato tanto, per fortuna comunque è andata bene, ho fatto fuori due avversari e quando mi sono trovato davanti al portiere sono stato lucido e freddo e ho fatto un buon scavetto. Come è andata 90 minuti dopo una lunga assenza? Sicuramente comunque è stata una partita molto dispendiosa, soprattutto a livello fisico, perché comunque loro sono una squadra forte, che giocano bene al calcio e alcune parti della partita ci hanno anche messo in difficoltà, sono stati bravi. Sicuramente non ero magari nella condizione migliore per i 90 minuti, ma comunque sono riuscito a mantenere, a fare tutta la partita e comunque adesso piano piano tornerò al meglio anche fisicamente.